Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Una persona si è gettata sotto il treno questa mattina lungo la linea ferroviaria Bologna-Padova nel comune di Battagliaterme. Si tratta di una donna di 29 anni originaria di Estema, residente da tempo nella zona di Monserice. Sul posto i carabinieri è la Polferre, disagi ovviamente alla circolazione dei treni da e per Bologna, accumulati forti ritardi. Ricordiamo che per avere supporto psicologico in caso di difficoltà ci sono alcune associazioni che possono aiutare come Telefono Amico, Telefono Azzurro, Progetto Inoltre e ancora Deleo Found. Si arricchisce di nuovi colpi di scena la vicenda di Samira El Attar, la mamma di 43 anni scomparsa da Stanghella. Il 21 ottobre scorso il marito Mohamed Barbri, finora l'unico indagato per omicidio e occultamento di cadavere, si troverebbe ancora a Barcellona in Spagna, dove sarebbe giunto il 2 gennaio scorso a bordo di un Flixbus proveniente da Padova con un biglietto pagato 109 euro. Il suo allontanamento potrebbe costituire un dato processualmente rilevante. Anche se non ci sono elementi tali da giustificare un mandato d'arresto europeo, gli inquirenti avrebbero ormai accertato la fuga di Mohamed. E lo starebbero tenendo d'occhio. Il suo potrebbe essere un gesto premeditato. L'uomo avrebbe atteso l'arrivo dal Marocco della nonna per affidarle la loro bambina prima di mettere in pratica il proposito di allontanarsi dall'Italia. Per la famiglia di Samira le coincidenze in questo caso non esistono se Mohamed si è allontanato. Hanno ribadito nei giorni scorsi la madre Malika e il fratello Aziz è perché è coinvolto in qualche modo alla scomparsa di Samira. Pare esista una seconda famiglia di Mohamed in Marocco e che da una ex compagna l'uomo avrebbe avuto addirittura tre figli. Samira sarebbe stata a conoscenza dell'esistenza dell'ex compagna ma pensava che dalla loro unione fosse nata soltanto una figlia. Una glamorosa bugia dunque sarebbe quella raccontata da Mohamed anche ai familiari della moglie. Ciascun nuovo dettaglio potrebbe ora rivelarsi fondamentale per avvicinarsi alla verità e finalmente trovare la donna. Sbanda paurosamente all'incrocio, finisce fuori strada, sbatte contro un palo della luce e abbatte la recinzione di una casa planando dentro il giardino privato. Protagonista un uomo alla guida di una Porsche bianca, Enrico Roverato, personal trainer presso una nota palestra di Padova che ha inevitabilmente catturato l'attenzione di tutto il quartiere perché il botto è stato davvero fortissimo. L'incidente è capitato ieri sera a Cadoneghe in via Garibaldi, spaventando molti testimoni e soprattutto la famiglia con un bambino piccolo che aveva appena finito di cenare dentro l'abitazione. Il leso, il conducente, il bolide ovviamente è andato distrutto. Nella giornata odierna il questore di Padova, sospeso per sette giorni da licenza del bar Pani, noto locale del centro storico in via Marsala da Padova, il provvedimento di sospensione adottato in seno all'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, trova fondamento nella circostanza perché il locale è stato oggetto di ripetuti controlli da parte delle pattuglie in servizio di controllo del territorio a causa delle continue risse tra avventori, molti dei quali risultati pregiudicati per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. Nell'ultimo controllo, effettuato il 3 gennaio scorso, le pattuglie hanno identificato circa 30 persone all'interno e nelle immediate adiacenze esterne al locale, mentre assumevano bevande alcoliche e tra questi vi erano anche 6 minorenni. La metà dei presenti era pregiudicata per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e uno in particolare già condannato per sfaccio. Presentata questa mattina a Palazzo Moroni dall'assessore Antonio Bressa, il progetto edilizio approvato per l'ex cinema Concordi. Vediamo il servizio di Giulia Tasca. Antonio Bressa, assessore alle attività produttive al commercio, ha annunciato questa mattina la prossima rivalorizzazione di uno dei luoghi che nella memoria dei cittadini padovani resterà sempre tra i più evocativi di serate d'altri tempi e d'altre età, il cinema Concordi. Dopo aver chiuso i battenti nel 2007, l'ex cinema al 95 di via San Martino e Solferino era stato completamente svuotato nel 2016 e oggi, a 4 anni di distanza, è finalmente pronto a prendere una nuova forma e riappropriarsi così del suo spazio in città. Il progetto preliminare di Massima prevede un cambio parziale delle destinazioni d'uso dell'ex cinema Concordi che, compatibilmente con le disposizioni urbanistico edilizie stabilite dal comune di Padova, saranno sia di tipo commerciale che direzionale e residenziale. Nello specifico, il piano terra, con una superficie di 710 m2, avrà una destinazione ad uso commerciale. Per il primo piano, invece, sono previsti un'auto rimessa ad uso privato di 415 m2 e degli appartamenti a uso residenziale per una superficie di 151 m2. Il secondo piano, infine, vedrà destinati 670 m2 ad appartamenti a uso residenziale. Rispetto all'estetica all'edificio, proprio a rispetto della sua indissolubile presenza nei ricordi dei Padovani, resterà praticamente identico. Cambierà invece, parzialmente, l'assetto della piazzetta circostante. Sì, è veramente un risultato importante, quello che assieme alla proprietà è stato raggiunto. Il Cinema Concordi, a cui tantissimi padovani sono affezionati, quanti ricordi sono associati a quel cinema, riprenderà vita, riprenderà vita con un intervento che prevederà al piano terra un locale pubblico, probabilmente di ristorazione, e poi ai piani, invece, superiori, ci saranno delle unità residenziali. Per cui, ecco, il Cinema Concordi torna ai padovani, credo che sia un luogo di incontro e delegazione importante che arricchirà, ecco, l'offerta del nostro centro storico. Noi abbiamo chiesto alla proprietà di impegnarsi affinché non venisse aperto lì un nuovo supermercato, anche per tutelare le attività commerciali che ci sono già insediate nel centro storico, i nostri mercati storici, tradizionali, abbiamo cercato, lì dove abbiamo gli strumenti per farlo, di evitare l'insediamento di un nuovo supermercato. La proprietà su questo ha secondato la nostra richiesta e quindi abbiamo potuto continuare nella costruzione di un progetto che quindi esclude quella possibilità e invece apre all'idea di un punto di ristorazione che avevamo già previsto con la possibilità di dare una licenza nel piano per l'insediamento di nuove attività di bar e ristoranti con il regolamento che abbiamo approvato un paio d'anni fa, che prevedeva proprio per gli ex cinema la possibilità di essere rinnovati e riqualificati con punti di ristorazione. Cambio al vertice per la Polizia Stradale del Veneto. Poco dopo di più di quattro anni di comando, il dirigente superiore della Polizia di Stato, Cinzia Ricciardi, lascia il compartimento della Polizia Stradale del Veneto di Padova per assumere la direzione del compartimento Polizia Stradale per l'Emilia Romagna a Bologna. In occasione del Giorno della Memoria, il Giardino dei Giusti del Mondo, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, promuove la mostra Il Testimone Auschwitz e Primo Levi, una storia di orrore che si chiude con la pagina esemplare di un'amicizia tra due giovani italiani. La mostra si terrà dal 14 gennaio alle scuderie di Palazzo Moroni e verrà ovviamente, anzi è stata presentata ovviamente questa mattina. Vediamo il servizio. Allora, sarà alle scuderie di Palazzo Moroni, sarà dal 14 gennaio al 24 febbraio e dedicata al testimone per eccellenza della tragedia e dell'infamia di Auschwitz, cioè Primo Levi, è nata in collaborazione proprio con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, e vuole dare esattamente un doppio messaggio, che questo purtroppo è stato e che dobbiamo fare in modo che davvero non accada più. Purtroppo i segnali, gli accadimenti e le notizie si accavallano in senso assolutamente negativo e contrario alle nostre speranze, ma noi siamo qui per ricordare anche i concittadini nostri, padovani che furono portati ad Auschwitz, solo tre sopravviste dai 47, era l'agosto del 1944 e tra loro c'era una bambina di 7 anni. La musica aiuta la musica, nasce così il concerto per Carolina domenica 12 gennaio all'auditorium Pollini di Padova con ingresso libero, con offerta responsabile. Ricordiamo che l'auditorium si trova in via Cassan 17 a Padova, il servizio di Giulietasca. La musica che aiuta la musica, questo è lo spirito che ha portato all'organizzazione del concerto per Carolina. Carolina Bunkoddo è una ragazza di 34 anni, laureata al Conservatorio in pianoforte e in procinto di ottenere una seconda laurea in flauto traverso, che si trova a dover combattere contro una malattia rara e degenerativa che giorno dopo giorno la limita sempre più nei movimenti, compresi quelli necessari a permetterle di fare ciò che più ama nella vita, suonare. Le terapie di riabilitazione a cui Carolina deve sottoporsi per riuscire a tenere sotto controllo la malattia sono molto costose, per questo il ricavato del concerto ad ingresso libero con offerta responsabile sarà interamente devoluto per sostenerne le spese. L'evento organizzato dal Conservatorio Pollini con il patrocino del Comune di Padova, dell'Associazione Medici di Strada e la partecipazione di Inner Wheel Club Padova e della Young Solidarity Orchestra si terrà domenica prossima, 12 gennaio, all'auditorium di Via Cassan. I sentimenti alla base di questa iniziativa sono quelli tipicamente dei musicisti, quindi inclusività, passione, la voglia e il piacere di stare insieme e insieme di contribuire a dare un po' di sollievo a questa nostra studentessa afflitta da una malattia rara. La musica in quanto tale rappresenta un'espressione molto alta della vitalità e della personalità umana, per cui immediatamente il Conservatorio si è attivato per cercare di dare un aiuto a Carolina in quanto siamo tutti sempre molto colpiti e molto così dispiaciuti quando una persona non ha la possibilità naturale di potersi esprimere a pieno manifestando attraverso l'arte musicale quelle che sono le proprie esperienze e i propri sentimenti più interiori, perché la musica è un veicolo preferenziale per manifestare la propria autenticità di persone, per cui il Conservatorio si è spontaneamente attivato e con estrema facilità siamo giunti ad organizzare questo spettacolo per Carolina. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni, grazie per averci seguito, vi ricordo il nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente aggiornati. Grazie per la visione!